benvenuti in questo nuovissimo video del canale vi ricordo di lasciare un bel like scrivetevi al canale e attivate la campanellina quando indovinare le skin di fortnite in versione minecraft e diamo un saluto a questo youtuber dosattivi si chiama penso per titolo al poter su youtube scrivete dosattivi e iniziamo dobbiamo indovinare bene ok primo numero 10 pesce secco comunque questo youtuber qua fa i video bene aspetta numero 3 fa bene i video trasformarli in minecraft in versione minecraft among us in altri giochi questo è il rapace le prime skin di fortnite infatti era pace il pesce dello spazio numero 7 leviatano si chiama in italiano zone si bunker numero 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 13 tanti video da farvi vedere questo è calzamaglia numero 15 io cerco di dovinare i nomi e i numeri per farmi capire che scrivi come si chiama ah questo è qua il corvo il numero 4 il numero 4 questo è calzamaglia queste qua sono divertenti da fare infatti queste qua queste qua volte ve li porterò sul canale bombarolo lucente numero 6 a volte ve li porterò questi video del canale che sono carini il visitatore numero 11 sono carini questi video mi piacciono e tecnica si chiama in italiano penso numero 2 ho il 2012 12 alla deriva la deriva in versione numero 14 la youtuber numero 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 8 si chiama succorso in corsa è il numero 9 abbiamo il sponsor dell'amore perduto numero 16 no ringere dell'amore volevo dire 16 il sponsor dell'amore perduto è l'altro quello cumo sua squadra sub numero 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 1 ragna rock numero 7 la re con expert numero 4 una volta era rarissima rarissima più della re adesso riuscite me l'ho detto chiaro ah lo school viola numero numero 5 e alla fine il cavalliere rosso penso numero 15 si vado a vedere tutti adesso ho un altro video adesso qua una pubblicità come il mio video sono con le pubblicità però non sto facendo presto video per poter vedere la linea quindi non posso saltarvi ok quindi viene la skin opzioni in colori per più difficoltà qui che si vede che è qui numero 1 numero 1 tudo jack gordon si chiama in italiano penso il numero 9 che a breve uscirà nello shop che è troppo che halloween numero 9 depil numero 8 vedete il ris numero 15 il risone verso mai dopo questa schiena bellissima oggi è brutto però in questo modo minecraft bratt.dog è brutta e bella su forno in minecraft va pena a schifo proprio gaffo l'amico di sky numero 12 giulsa numero numero il coligio il coligio femmina non so come si chiama 13 il numero 13 scusate comunque questo qua il rex ma femmina il numero il robot il numero uno mi so come si chiama in italiano acqua man numero 14 il numero numero 11 il numero numero 7 il numero 7 dell'amore perduto il quattro ranger dell'amore per l'inversione femmina numero numero 10 al scuolo il numero 8 catalizzatore di allea deriva numero 9 quelle persone di allea deriva femmina bombare di fronte sono soccorato meno qualità in america numero 5 quale rivestivo numero 15 abbiamo finito voglio un altro video da farvi vedere questa qua eccolo l'ultimo poi andiamo in quel mitico ai nominati pure voi come sempre nascolo numero 15 almeno ci sono tantissimi per ecco mio tu finisci il video 3 minuti e 3 e 40 ninja numero 9 che poi l'hanno fatta per senza niente la skin di ninja come non gioco più ninja vabbè almeno avuti i soldi numero 7 il tacco anche con i soldi numero 6 ninja lo slime riprivi invece slime numero 4 la skin è bella quindi è bruttissima sky è brutta sky 16 è meglio negli foto aura questo un try harder da parecchio tempo 13 numero 13 crack shot numero numero vabbè la mia skin preferita qua non posso sbagliare è carlino numero 2 la mia skin preferita è una donna di bello su Minecraft ok l'intro di cerina qua mi sembra un gigaboli mi sembra una pazza fisicopatica 11 brutus brutus voi dovete sapere una cosa brutus è tipo lo sapete no i minions i minions qui così gialla e c'è tipo uno grosso tipo che sembra lui con la giacca tutta verde tutta nera che ha quella macchina gigante quello là mi sembra non so perché numero 8 è brutus rubino numero 1 rubino è pure bella su Fortnite eh su Minecraft numero 12 Yukongo si chiama in italiano è numero 12 mi scrive che non sto uscendo da 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 un sacco di tempo è Carbassassina numero 14 è uno starter pack di 8 euro adesso che vi danno 1000 V-Bucks se completate le sfide numero 5 è Bombardier Lucente Bombardier Oscuro numero 3 John Wick Travis Scott numero 10 ricordo quando ho fatto l'evento nel casico di F-2 forse secondo me ho fatto bene a fare la collaborazione con questo cantante in quell'aprile 2020 stavamo in quarantena secondo me ho fatto una buona una buona parte per divertire la gente su Fortnite numero 13 è sbalanita con lo scheletro questo è in una dei miei prossimi shoppati forse verge verge numero 2 passiamo l'ultimo l'ultimo ah facilissimo beach bomber e 15 bombarola d'aspetto in italiano si chiama ok io ho indovinato tutti e un po' ho indovinato tutti ok e adesso vi saluto al prossimo video se volete iscrivetevi al canale attivate la campanellina lasciate like ci vediamo al prossimo e nuovissimo video ciao ciao